Un operaio è morto e altri tre sono rimasti feriti in un cantiere di Ludwigshafen in Germania. L'incidente è dovuto all'esplosione di una conduttura di gas che era rimasta esposta nel cantiere in cui stavano lavorando alla costruzione di un nuovo edificio residenziale. Testimonianze sul posto parlano di un buato fortissimo e di fiamme alte decine di metri.